Non si è presentato volutamente ieri all'aggiunta tematica, sui punti di forza e debolezza di Sulmona e il centro Abruzzo, il consigliere regionale Andrea Gerosolimo. Un'assenza che sorprende, ma l'esponente di Abruzzo Civico esce allo scoperto ed è convinto che in questo momento ci vogliono i fatti per il territorio, altro che l'aggiunta tematica. Resto in attesa di atti e fatti da parte del presidente dell'aggiunta regionale in favore del territorio della Valle Peligna. Se né gli atti e né i fatti ci saranno, io e il consigliere Mario Livieri di Abruzzo Civico ci regoleremo di conseguenza, annuncia Gerosolimo, che lancia un chiaro segnale ad Alfonso. Quella del consigliere regionale è stata dunque un'assenza mirata. Ormai, dopo gli impegni assunti in campagna elettorale, aggiunge Gerosolimo, è giunto il momento di produrre azioni capaci di incidere sul futuro del centro Abruzzo. Allo stato attuale, l'aggiunta tematica di ieri, riconvocata da Alfonso, ha sospeso la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sulmona, in attesa dei lavori della conferenza dei servizi interdipartimentale, e ha riconosciuto il territorio di Sulmona e della Valle Peligna, area di confine. Ma questo, per Gerosolimo, non basta.